Salve gente, sono Cecchino98 e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio di Half-Life 2 Ok, non mi ero accorto che ci fossero così tante formiche leone, ma va bene così Fatemi perdere questa vita E... proseguiamo Allora, qui Ah, qui abbiamo tolto il coso E... dobbiamo proseguire da questo lato, suppongo Sì, vai, un caricamento subito all'inizio, proprio quello che ci serve Fantastico Dai Ok Perfetto, ho l'impressione che stiano venendo a uccidermi Sì, tantissimo Così, ah, devo abbassare il volume Cosa cacchio mi ha colpito? Una bomba probabilmente Aia, no No, dannazione Via, aia, no, no Perfetto, morto Andate a formiche leone Ok Morti qui Dentro le celle non c'è niente Arrivano altre formiche leone, quindi benissimo Perché così pochi colpi per questa ne avevo di più Ricordo Dannazione Cacchio di danno è, non ha senso Ah, non ho finito di colpi per questa Però guarda, il danno che mi ha fatto, madonna Oddio Ditemi che c'è qualcosa per ricaricarmi la vita Ah no, però c'è una di queste cariche al Di quelle sfere di energia Oddio E vabbè, anche le torrette adesso Non andiamo da quella parte Anche se ho l'impressione che dovremmo andarci lo stesso Aspettate Sì Benissimo E ricominciamo da qua giù Fantastico Morto Mancato Stiamo un po' indietro anche qua Ah, da nozione Adesso non gli dà un altro lassù, vero? No, tizio, dite a masso Prima che tu possa raggiungere quella cosa Fantastico E stavolta non ci abbiamo perso vita Ok, roba utile Ho paura che dovrò Mandare le mie formiche leone a prendere La roba No, andate raggiù Io cerco di Aia, non sparare Uff Dannazione Cioè questa è una posizione bastardissima per loro Mamma mia Uh, ciao tizio Perfetto Arrivano dappertutto le formiche leone No Lame della morte dannate E vabbè, le formiche leone ammazzano le lame della morte Perfetto Che stanno No Fantastico Problema risolto No Muori Uh, altri Sì, tanti altri Barili Mi chiedo se possa utilizzare tipo un barile come scudo Sì Non sembra in grado di colpirmi Ok, forse sì Dalla azione Perché sto avendo bloccato da qualcosa? Perché? Andavo lento Perché? Cavolo Muoto Usce la pompa Qui Qui No Esplosa Fantastico Dove? Vai via No, qui Ok, sono tanti Qua Perfetto La bomba è andata a finire di sotto Fantastico Best granata EU Proprio Cosa mi ha ucciso? Perché cosa non prendono gli infatti? No, da qui Cioè, sei serio? Da qui? Da qui Va bene Dovevo fare la part of skin Perché ci vuole un bel po' Ok, eccoci Raga, sta parte è pallosissima Già ci sono morto un'altra volta venendo qua Muore Questa qua abbiamo solo due colpi Perché prima solamente l'abbiamo preso di più Ma sono spariti magicamente Porto Anche tu Crepa Preso Fantastico Sono qua finiti i colpi per quella Che invece è molto utile Oddio La sua arriveranno altri, vero? E stavolta non ho sbagliato Mette Buttaci la granata Perfetto Dovrebbe riuscire a fare qualcosa adesso Ah ma stanno anche qui i bastardi Perfetto Morti tutti E sono ancora vivi questi La granata non gli ha fatto niente Ma muori Oh Altri Dio santo Ok qua Quick save perché Sennò veramente Ah e non c'è niente Fantastico Andate via Via Su Oddio Di qua si va almeno No ma Cioè quindi sono venuto qua su E non c'è nulla Niente Zero Stava qualche Altra torretta Fantastico In una zona in cui non possiamo neanche passare Ditemi voi il senso di questa cosa Oddio Ma perché Cosa ho fatto io di male per meditarmi questo Forse qua su Aspettate Vabbè che la usiamo a fare adesso Ma vabbè Ovviamente nessuna di queste celle serve a qualcosa No ma come l'app Dove si apre E potevamo andare di qua No fantastico E ci sono i combine Via Ti Li odio No No Quelle cacchie di formiche Passano sopra questi cosi E li fanno esplode Ogni volta Almeno posso fare così No perché non ci ho fatto prima Forse perché sono fra il fungo Quella Se i rossi non si potevano distruggere Ma devono sempre cambiare tutto Nei giochi Ci vado di fucile a pompa io Qua E morti tutti Fantastico Arriva l'altra gente Sì Là c'è già uno Oddio È di qua la torretta Sì Molto Fantastico Andate avanti voi E l'hanno ucciso No è una torretta Oh sì Vita è matura Finalmente Vita è energia Vabbè quel che diavolo è Oddio sì Ma che diavolo è È un omino scheletrico Aiuto C'è il tizio che parla Ma non Stai zitto Dove stanno gli altri parlanti Attraverso cui parla Perfetto Che parlano di me Praticamente È lui che cerca A fare propaganda Nel tizio di che Non ricordo neanche come si chiama Insomma quello che ha fatto il trattato Con gli alieni Che sta cercando di fare propaganda Contro di me Ma noi siamo forti E quindi ce la faremo Perfetto Qui possiamo Cogliere adesso Fantastico E che palle Ma Dal nulla così E muori Già se sei andata a metà Dell'armatura che avevo raccolto Bene Benissimo Oddio 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 Penso Cioè Su questa zona poi Non staccare niente Niente di stare Una parte sparatoria Probabilmente non sapò Neanche che titolo Dara questo video Ma Troveremo un modo Di fare qualcosa Ah Munizioni per questa Che le ho al massimo Oddio Levatevi Barabbè Barabbè Le mie formica leone Osvaldo Formica leone Oh Questo è il punto C'era prima il tizio Che l'hanno ucciso Per fortuna Oddio Gente Tanta gente Troppa gente Dei colpi per la palestra Per il revolver Sarebbero galiti Eh Ti riferi a revolver Ma no Non te li mettono Dal punto in cui L'hai preso Veramente Eppure è un'arma Così bella La nazione Sai che mi fa Questo il gioco Fantastico Cioè Si stava parlando Dietro un materasso Quello Fatemi capire Muoi Muoi Perché vado a 39 fps Su un gioco Del 2004 Non ne ho idea Ma va bene Ma va bene Ma va bene così Oddio Bene Vediamo se Hanno qualche Unizione utile E andiamo avanti No Torrette no Di nuovo C'è Puoi te li metto Su questi corridoi Così Che si chiedi Come dovrei fare Io a rivitare Scusa No Come dovrei fare Signamente Questa cosa Mi prendo Materasso davanti Aspettate Via Letto E il materasso E lo userò come scuro Se fosse possibile Prendere il materasso In modo decente Tipo Mettelo in modo lungo Invece che così Stupido Gordon No Non mi riparerà da niente Questo Va bene Ho bisogno Di un diversivo Andate là voi Io come me ne vado Di qua Aha Fantastico Vai Siamo dei ninja Ok Scatoloni E roba dentro Penso di no Oddio C'è tantissima gente qui Cavolo Non è andato Gli altri dove La nozione Ma levati Fissia Attacca Su Non stare davanti a me Oddio Di avolo Che schifo di posto è questo Soltare delle bombe Da qualche parte E vabbè Il tisse Quello fucile a pompa Che tanto mi ammazza qua E vabbè Mi spano tutti Va bene Ma muoio Cosa Da dove la bomba Non Si Spara Nulla Scusate Ma di checkpoint Non ne mette più Sto gioco C'è Soltanto Quando Faccio i salvataggi Cioè qui Secondo me Se non salvavo Mi faceva ripartire Dal punto Dove abbiamo Cominciato il video Levate video Basta Basta Ottimo Via Oddio No Via 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 Ma che poi ci sono E che hanno Dai Chi li ammazziamo tutti Anche tu li muoi Ho l'impressione che abbiamo buttato una bomba No Non l'hanno buttata Perfetto Ho l'impressione che dobbiamo cominciare a utilizzare la pistola di base Perché è precisa Si infatti li colpisco Eh cavolo Hanno buttato una bomba Però Nel punto sbagliato Quindi Ok Qui devo soltanto Stare Un po' attento Che c'è il tizio col cuci da pompa Morto Dimmi che non mi buttano le bombe Eh cacchio però Muori No Io salvo qua No Via muovete tutti Torretta Non mi laggare adesso Via Oh Ce n'è un altro È assurdo No era la torretta Fantastico Oh Ci siamo riusciti in qualche modo Ci siamo Riusciti E qui un Altri colpi per il fucile a pompa Fantastico Sentite io Sto video lo faccio durare un po' più del solito Stiamo andando avanti veramente troppo poco qua Non posso fermarmi ogni Niente Altrimenti va a finire Questo gioco lo finiamo Fa due anni Immazione Muori Su dove l'altro L'hanno ucciso mi sa Perfetto Non li ho uccisi però Uccidetelo Uccidetelo Brave Bravissime Ok Item mix C'è qualcosa utile Da queste parti Ho bisogno di vita E c'è armatura Fantastico Tutto quello che ci serve qui E lì c'è una torretta Vero? Sì Tanto per cambiare Ok Facciamo il giro da questa parte Dovrebbe trovarsi di qua No Questa è una stanza Senza senso Oddio Ci sta una torretta anche qui Cacchio Qualcosa ha preso fuoco Perfetto Tutto va a fuoco Ottimo C'è un'altra lì Vai Cacchio Devo essere veloce Oddio Perché costante Tu avevi mette la nozione Guardate Fantastico Salviamo Muoi Anche tu Fantastico Oddio Anche qui sono Andata Fantastico Un'altra ce n'è Mi sa Oddio Ma che cos'è qui Uh Vai Stese tutte e due Prima cosa Potessero fare qualcosa Like a boss E c'è un terreno C'è un tizzo Con il cucchia la pompa La nazione Due tizzi Con il cucchia la pompa Ok Non bloccarti sulle porte Gordon Sempre cacchio Oddio E vabbè Mi ha fatto un tantino male Dovrebbe starci un altro Qui stavo attento Dov'è No Era morto Benissimo Carichiamoci E quanta Ora dovremmo Riuscire ad assorbire Abbastanza l'anilab Da poter sopravvivere Un secondo di più Forse Va bene Torniamo giù E Vediamoli Spaccare qualche altro culo Fantastico Quanta porta chiusa E dove andiamo Gli interruttori Sono invisibili Perché Allora aspettate Probabilmente c'era qua sull'interruttore E io non l'ho visto No Wow La stanza più ovvia Per un interruttore Ah però posso passare Adesso il vero Ottimo Oddio Oddio Quanti cacchio sono Oddio C'è un Eh sapevo che sarebbe arrivata Guarda Combine Morite prima voi Grazie Grazie Oddio Ha fatto un'esplosione Blu Perché No Ah Perfetto Vuoi Chiuso il lanciazzo Io Quando si allontano adesso No Aia Oh No non è ancora morto Piede di porco Oh Cristo Da delle botte Questo Gordon Perché non corri da nazione Ok devo Uccidere velocemente Oh posso fare tipo sfondare tutte le colonne Magari corra tutto Preferisco di no Fantastico Uff Ok direi che questo è Un buon momento per chiudere l'episodio Vi ringrazio per avermi seguito Spero Che il video vi sia piaciuto E magari usciremo presto da questo posto E le cose si faranno un po' più interessanti E Noi ci vediamo alla prossima Ciao a tutti